ma stai facendo l'azione? si si un troppo hunter? si tipo 3 o 4 maggiori non mi sceglie un troppo hunter? si guarda Davvero quel camion pensa di scappare dal cazzo di Hunter, davvero. Non riesco a dubbiare che un fragoglio intanto sta morendo. Sì, tranquillo, ormai ci ha già fatto due ore fa per te. Io sono bello. Non capito più che l'hai sparato. Sì. Non capito più che l'hai sparato. Non capito più che l'hai sparato. Ah, se posso faccio una sparata io. Eccolo, eccolo. Non capito più che l'hai sparato. Non capito più che l'hai sparato. Non capito più che l'hai sparato. Sì, provo. Hai aperto tu la porta di una casetta di legno piccolo a cui arrivo al mare? Zitto. Ok, aspetta un attimo. Stai fermo lì. Sta sparando il ribelle. Fermo lì, lo vado a prendere. Fermo lì. Sta sparando? Sì, sta sparando a qualcuno. Non so chi è, ma lo sa che lo vado a prendere. Ah, me no. Ho la posizione abbastanza valida da quel che ho sentito. Se mi dai una mezza idea magari. Aspetta. Mi sto arrasciando. Si comincia a vedere di qua, eh. Io ti vedo. No, 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 no. Oh, è morto, cazzo. Bella. Ready. Si ha colpito? Finché mi sparano. Allora, allora. Uno, uno sta sbottato. Qui sono io. Vicino a me c'è uno che spara. In zona di Fottoro, giusto? Questa è la sbottata. No, poi anche allora, non troviamo qui. Oh, come è l'altro? Questa... Compline avanti a me. Non lo vedo Allora c'è il versante di là, io non lo vedo Forse Manu è riuscito a vederlo Dritto davanti a me, dritto davanti a me Manu, Manu aspetta Manu, tua sinistra, tua sinistra Ce l'hai a 50 metri Tua sinistra, 50 metri ce l'hai È sdraiato, su una collina Non posso, o te lo illumino Non te lo posso segnalare perché è sdraiato Non lo vedo più con questa cazzo di nebbia Però è un cazzo di cosa con un fucile di merda Sei regroup, sì sì Eccolo lì che si sdrai Aspetta ce l'ho qua, ce l'ho qua È tuo Manu, dai Bravo Manu, bravissimo Manu Bravo, bravo, bravo Perfetto Fate vorrei che io l'ho visto morire E basta, ho visto la Manu e se stava mentre moriva E basta Buono, bella Manu, bella Manu Vedi? Occhio Manu, sei appena appena visibile dalla sponda di qua E te lo dico, ti avviso Ma i ribelli dove cazzo sono finiti, scusa Torno su un attimo, eh Manu Fado con l'arm shift H mi rispondo È nuovo, oddio No, vabbè, sì È un vecchio giocatore, ma è nuovo nei ribelli Eh vabbè Stai fermo lì, stai fermo lì Vabbè, no, aspetta L'azione è finita Ad azione è finita, lui ha detto Ad azione è finita Quindi Probabilmente se io gli dico Va bene Magari Dice L'azione è finita Aspetta, ora Sprafanaltro Dai, ai budellino Non puoi Non è successo un urt No, aspetta Se riusciamo a finire l'azione Allora, ad azione è finita Vuol dire che sicuramente Anche se vincono loro Te lo ridanno Eh, rimani un attimo FK Non far vedere che esce Così ci dai da solo la maggioranza numerica Ma che estorsione Ehm Dove è altro? Non so Ark, però Ma chi l'ha scoperto sto bug? Che sei morto prima Porta pazienza Siamo in una Sessione Ehm Urgente I trovi Per risarci Scendila al mezzo Veloci Scendila Ok Fermo, 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 fermo Non sparare Ah, minchia, ma quando sono a scoperto A posto Grazie mille, Gustavo Slogato, slogato, rilogato Non ce l'ho più Mi ringrazio Mi ringrazio Ok Ah, ah, ah Dico da me per favore Ah, ma lei ha rapinato Alessio Quanto l'ha rapinato Alessio? Oh, l'ho già detto Alessio Sì, lei Ecco perché ti ha rapinato Allora 306 Sì, ho rapinato Alessio Boia, lei raffina le persone per 306 dollari Euro, ma non si vergogna Eh, ma pensavo essere più Pensavo avessero di più Alessio deve vergognare No, ma è vero, non gli ho mai sparato a Gustavo No, no, lei ha sparato a me Lei ha sparato a me per il momento Prego, dottore Gustavo no, a Gustavo no, è un buciardo Sì, rispettore Sì, abbiamo, dobbiamo praticare il DLS, è controllato un attimo Non si preoccupi, non si preoccupi Che cazzo ha cambiato lo sportivo, non gira più Cristo Ah, le mie gambe, aiuto Ecco la quale c'ho, ma che stavo da un attimo No, grazie 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 Guardi, non devo neanche fare con i 50 metri Sotto fondo, perché se passato l'aeroporto, sentito uno che diceva Sotto fondo, è vero, è vero, ho visto Cosa vede No, no, non so di farlo Stavo, un attimo, ti cerco le chiavi Insomma, qual è la mia fine? Allora, carcere, signor Giacomo Ciao 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 Buon esperato, eh? Sì, sì. Voi vedere che mi non sono? Voi cercare. 20 metri Aspetta ce l'ho Aspetta 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 E' morto L'altro mi ha bocca scritto un messaggio Arma di Go No Ma 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 Oh, vedete che sono io, per favore, vedete l'altra porta, occhio, copremi il culo, copremi il culo. Oh, cazzo, aia, 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 dalla casa di Floxino, dalla casa di Floxino, te qual è? No. Allora, guarda le mie posizioni, davanti a me. Ok, non è. Era dietro al muro. Foglia. Te l'ho detto che c'era un altro. Ok, aspetta, faccio una cosa. No, aspetta, ma se mi copri, ma cerco avvicinare il mio. Vai. E te. Non ti arreglui, no, man. E' un po' No. Vai, 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 va, va, va. Tutto, 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 tutto. Il dosa, non ci sono. Il dosa, non ci sono. Il dosa. morto oi non mi piace buon anche io buonanotte ciao buonanotte user disconnected from your channel che c'è la fia mi dico che c'è la fia sui qui si il un 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 Grazie a tutti. 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 Bravo. Grazie a tutti. 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 No, non si può parcheggiare lì. No, no, non si parcheggia lì. No, 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 guardi, no, non si può parcheggiare, non si può parcheggiare, non si può parcheggiare, non si può parcheggiare, non si può parcheggiare. Sbiricuda, supercazzola prematurata, non dico prematurata la supercazzola. Non capisco. Con scappellamento a destra. Ah, le appelle, e le son la, guardi a destra, la, ma qui non si può parcheggiare. No, volevo dire, non si può parcheggiare. No, volevo dire, ho chiesto di privilegio come se fosse altra per lei. Ispettore tombale. Ispettore, ma che dici? Ispettore, con fuochi fatui. E per quanto tempo sta qua? Quintana, o setta. Intanto trini la confraternità pulitina, eh, grazie. Si parcheggia lì, eh? Faccia, faccia quello che deve fare all'ATM però parcheggi per bene, per carità di Dio. Sicuramente un'immigrato italiano clandestino. Alla casa, immigrato italiano clandestino. Torna a casa. Che cosa dà una maglia a coli?